Allora mister, partiamo dagli ultimi cinque minuti che sono stati cinque minuti a Cardiopalmo. Sì, devo essere sincero, ormai pensavo che non riuscissimo a raddrizzare, invece siamo stati bravi a crederci fino a un fondo, un po' fortunati, però poi alla fine dai prendiamoci questi tre punti che sono importanti, credo che sia forse la prima partita dove magari la sorte ci ha dato qualcosina in più e quindi è stata una partita tosta perché sapevo che il Senai è una buona squadra, ha giocatori importanti, veloci. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante il vento contrario, abbiamo preso gol sull'unico contropede che abbiamo concesso, poi abbiamo creato, noi siamo riusciti a far gol, poi nel secondo siamo partiti bene il pareggio e poi dopo il 2-1 invece siamo andati un po' in confusione, non abbiamo giocato più con lucidità, qualcuno che aveva speso tanto è andato un pochettino in difficoltà e quindi, però poi dai, siamo contenti perché sono quelle partite anche belle che ci danno morale, quella consapevolezza che però bisogna fare molto meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Ecco, come ci puoi spiegare, nelle prime dieci giornate una difesa quasi sempre imbattuta, due partite e quattro gol, soprattutto questi contropiedi che fanno male? Ma sai, oggi mancava Barsotti che per noi di dietro è un giocatore importante, quindi mi ha concesso questi due contropiedi, secondo me sono anche episodi, noi siamo una squadra votata a giocare davanti e quindi quando concedi e trovi giocatori bravi che ti possono mettere in difficoltà può succedere quello che è successo oggi o domenica scorsa. Quindi, ripeto, bisogna lavorare però secondo me più di squadra, perché questo può essere anche un campanellino d'allarme, quando concedi poco e prendi gol significa che c'è qualcosa da rivedere e quindi, però ripeto, magari con l'esperienza di Barsotti anche oggi, lo stesso domenica che per motivi contingenti ho dovuto metterlo sull'esterno anziché centrale, quindi sai, la coppia brega fiale senza nulla togliere a nessuno ci dà quel valore aggiunto e quindi ora sono due domeniche che non giocano insieme e quindi probabilmente qualcosina abbiamo pagato, però dai, l'importante è farne sempre uno di più e oggi prendiamoci questa vittoria. Ecco, domenica a Castelnuovo un big match fra due attacchi sulla carta micidiali. Sì, ora ci sarà questa squalifica per brega e quindi vediamo. Sicuramente è una partita da preparare, è importante e quindi va preparata nel modo giusto. Ora riaprono anche le liste, il mercato, vediamo un po' cosa succederà. Hai chiesto qualcosa alla società in particolare? Ora vediamo, ci guardiamo un po' in giro, intorno, per vedere quelle che possono essere le soluzioni adatte a noi e quindi, però noi siamo questi per adesso, con questi bisogna lavorare come abbiamo fatto fino adesso. Ripeto, quello che mi è piaciuto è comunque sia che anche nelle difficoltà, anche non giocando bene, non abbiamo mollato e quindi questi sono sintomi importanti. Dai, bene così. Grazie.